Questo mese in esclusiva su Caccia. Tornano le avventure di caccia dei fratelli Lugani. Seguiamo un gruppo di segugisti appassionati di caccia alla lepre nelle loro battute in montagna, pianura, collina. Alcuni cacciatori condividono la loro passione spaziando dalla caccia agli acquatici, alla piccola migratoria a quella con il cane da perla. La caccia al camoscio tessuta e raccontata da tre cacciatori di tre generazioni diverse. Caccia TV. Trasmettiamo passioni. Grazie a tutti.